Mi occupo di comunicazione e organizzazione per lo spettacolo dal vivo, da circa 20 anni. Sono presidente di un'associazione culturale, la Music Theatre International, che è nata nel 2000 e che sempre in questo campo produce spettacoli ed eventi nel campo delle performing arts, ma anche dei vari linguaggi dello spettacolo. Questa mia passione è nata quando ero molto giovane, perché anche per un interesse della mia famiglia, soprattutto di mia sorella, verso la musica, sono stata iniziata a 6 giovani, a circa 16 anni, verso la musica, in particolare l'opera, e per alcuni anni ho anche cantato. Poi mi sono dedicata più all'organizzazione, mi sono specializzata in particolare nel management dello spettacolo. Il futuro prevede di continuare a lavorare in questo campo, almeno io me lo auguro, sia in Italia che all'estero, e con la mia associazione abbiamo vari progetti in corso. Uno dei progetti più a lungo termine su cui stiamo lavorando è il Festival Cerealia, che parte dal principio della Dea Cerere per affrontare vari temi che sono legati al mondo dei cereali, ma anche della cultura, dell'ambiente, dell'economia e della società.